Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club, non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club, non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club, se qualcuno grida basso, si accascia, è scompato, fine del combattimento. Quarta regola, si combatte solo due per conto. Quinta regola, un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola, si mette camicia, si mette scarica. Settima regola, i combattimenti durano per tutto il tempo necessario. Ottava ed ultima regola, se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti